Gli sfarzosi festeggiamenti dei grillini, molto sfarzosi, lo stato dei giornalisti che non mi... Allora, adesso dobbiamo intappellare Miclave, Andrea Conti, Fernando Rossi, Tantomelia per una moneta locale a Parma, con l'appoggio tuo del movimento che pensi che si dice. Ma mica è consigliere lui, perché parli con lui? Perché lui è l'animo. Tu sei il fondatore occulto, lui, Michele Morini, fondatore del meetup di Parma, numero? 60? E' il numero a testa è... E' il meetup 69? 2... Meetup numero? 69. E' un numero strano 69, eh? Infatti siamo orgogliosi. Lei è un po' porcellino, vero? Dica la verità. Dica che c'è a stare con l'Iran. Giustamente. Giustamente. Ma perché sono così sfarzosi questi festeggiamenti? Non lo so, so che il catechismo si è raffordato. Lei si occupa di tutte le cose logistiche, io l'ho vista, eh? E' vero? Quindi giuro. Dica la verità. 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 Scusate, ma oltre agli inceneritori chiudiamo anche la tab, vero? E' certo. Scusate. Scusate. E da Parma noi voteremo 19 no contro la Parma, giusto? Sì. Bene. Quindi Lunardi e la tua moglie te ne possono andare a fare bugie. No, no, no. Va bene. Ciao Peppe. Ciao. Ciao. Ciao.